ciao ragazzi siamo qua in giardino con le mie bombe come sempre torniamo a parlare di concimazione e un sacco di persone mi stanno scrivendo un sacco di dubbi gente che farà dei danni esagerati sulle prime piatte questo perché ovviamente ragazzi quando si sceglie un prodotto organico lenta cessione quindi prodotti nell'acqua fresca come chiamo io quelli che non fanno niente per avere un minimo di spinto e minimo di risultato un minimo di maturazione vera c'è bisogno di avere degli osaggi molto alti che quindi prima regola ragazzi non fatevi fregare dal volume della quantità di prodotto che vi danno con la stessa spesa magari un micro granulare fatto bene come genesi genesi gold ecologetto un altro video ragazzi con genesi gold 5 grammi 10 grammi e così siete a posto per due settimane quasi un mese con quei prodotti invece i caccolini dove dentro in teoria c'è qualcosa ce ne vogliono 40 50 grammi a botta e quindi la spesa non è giustificata la resa non c'è risultato non c'è ragazzi non c'è cazzo da fare perché questo ragazzi ve lo sognate ok anche queste due piante andando avanti con i prodottini vari cercate di capire innanzitutto primo come salvaguardare il portafoglio e gli sprechi in generale e anche salvaguardare lo spazio perché non possiamo tenere dei sacchi giganteschi in mezzo ai coglioni quando dobbiamo fare bonsai effettivamente no perché sennò diventiamo degli agricoltori diventiamo dei coltivatori di patate e non è più bonsai ok quindi concentrazione facciamo le cose fatte bene quindi poca roba che funziona poca roba sul vaso io qui ragazzi ho usato quattro prodotti e ieri c'è quattro prodotti quello c'è c'è un pochettino di nero fine ok tra l'altro tutta sta sega mentale a nomi si rovina il muschio ma ragazzi dovete fare i bonsai dovete fare il muschio cioè ragazzi ma chi se ne frega parte quello dovete andare a mangiare la pianta oppure al muschio e o agli insettini tutte quelle robine che ci sono sopra concentrate sulla costruzione cazzo c'è per dio bisogna tirar fuori qualcosa a fine anno c'è inutile starli a guardare il contorno bisogna concentrare sul bonsai quello che nessuno sta facendo praticamente tornando discorso dosaggio che non fa male alla pianta cioè c'è questa questa idea nella testa della gente che coi prodotti quelli organici a si può dare più prodotto non succede niente sto cazzo se permettete primo non succede niente veramente nel senso come risultato quindi date di più per effettivamente non succede veramente nulla perché sono dei caccoli quindi di azoto ce n'è poco non c'è un cazzo dentro secondo terzo non mi ricordo ragazzi ma se mettete tanta roba sopra tanta merda perché quello è ragazzi si intoppa tutto avete problemi veramente sulla pianta problemi che la significa asfissia radicale richiamo di insetti richiamo di vermi di schifo di funghi ma non va bene che cazzo state facendo via tutto poca roba che funziona pulito e via perché se si intasa il substrato ragazzi l'anno dopo bisogna rinvasare se non si rinvase ragazzi la pianta muore c'è l'acqua non va giù bene la pianta muore non è che c'è una via di mezzo no ma un fungo il fungo viene perché state facendo i lavori alla cazzo perché state riempiendo uno spazio che è fondamentale per la pianta ok perché nel substrato che è granulare ragazzi deve girare ossigeno e deve scolare bene l'acqua in eccesso se iniziate a buttare dentro roba che va intasare sopra che richiama ogni tipo di bestia possibile immaginare ragazzi si intasa fa un pappone di roba vi ritrovate dopo un mese ad avere dei problemi della madonna vi ritrovate a dover zappettare togliere che cazzo è non è più far bonsai quello è manutenzione di mano d'opera da orto frutticola che non significa niente bisogna far poco ma bene ok quindi ragazzi se usate mali prodotti sprecati i soldi e sprecata anche la pianta e bene questa è la verità attenzione poca roba è da mangiare veramente vi ripeto dato quattro prodotti io qua non ditemi troppo non è troppo so io quel cazzo che sto facendo sulle piante ok perché effettivamente ci stanno funzionando sono partite sta bene no problemi quindi usate la testa evitate di fare cazzate per uccidere soltanto i vostri materiali adesso bisogna pensare soltanto costruire rami fine cioè non c'è un'altra via un'altra cosa più si dà meglio è perché la pianta deve creare è inutile l'ho detto anche in un altro video è impensabile fare una maratona e mangiando un panino con la marmellata cioè dai ragazzi smettete di sognare c'è una roba allucinante non fatemi finocchiare da gente che vi fa vedere chissà cosa che poi non c'è niente dietro dai un vero bonsai a un certo punto diventa un bonsai di che cazzo stiamo parlando tutta questa gente sui social che fa vedere la robina io faccio così io faccio così io no quello sbaglio bisogna fare così ma di cosa state parlando ragazzi inutile le critiche sono una cosa il parlare è un'altra mettere mano a far bonsai portare avanti materiale è un'altra cosa non lo sta facendo nessuno ok serietà risultati e qui è partito tutto è stanno prendendo tutte le gemme questi sono già bene avanti sono aceri partono prima però vedete già come sta già iniziando a maturare come ha già ingrossato la foglia questo è fondamentale per evitare problemi con gli altri di tutto il resto ok quindi l'acero parte con la foglia una piccolina l'obiettivo a farla diventare grossa subito è dura e grossa e spessa così la foglia diventare così gli affidi non vanno non va la cociniglia non va nessuno non va nessuno poi quando è matura si fanno i trattamenti preventivi sulla foglia matura e li pulite perfettamente e vedrete che a certo punto avrete dei cazzo dei risultati del resto non me ne frega un cazzo che ragazzi è inutile star qui sempre a discutere del niente la strada migliore è quella di mantenere substrato pulito isolato dei problemi che ci sono sopra con lo sfagno e dare da mangiare vero le piante poca roba ma buona smettete di intasare tutto di fare cazzate che non hanno senso ok a bomba a breve arriva arriva un nuovo prodotto ci siamo siamo forti ragazzi siamo i più forti ma c'è un cazzo da fare ragazzi sempre in prima pagina ciao a tutti ragazzi sempre di più ok a bomba grazie grazie